ciao a tutti eccoci qua come sempre per parlare di cinema e parlare di un film che sta per arrivare nelle nelle sale italiane nei cinema italiani perché si ritorna piano piano a tornare nei cinema che è il delitto mattarella film drammatico biografico diretto da aurelio grimaldi e ne parlo con pierpaolo bonelli ciao pierpaolo ciao giulio buongiorno aurelio grimaldi è un regista sceneggiatore dalla carriera un po così incostante le ha passate un po tutti i generi ha fatto anche l'attore in generale e qui si confronta con un tema che ha già affrontato altre volte anzi un suo esordio come come sceneggiatore è stato per esempio la sceneggiatura di mary per sempre che era calato nella realtà e qua va a ricordare un delitto importante e era soprattutto un pezzo importante della nostra storia sì un pezzo di importantissimo della nostra storia che in realtà non è stato forse ricordato così in maniera importante come altri omicidi altri fatti di cronaca nera che hanno caratterizzato l'italia di quel periodo e anche del decennio successivo per cui questo film serve anche per ricordare la figura del delitto mattarella che è un fatto di cronaca appunto successo esattamente 40 anni fa l'omicidio avvenne il 6 gennaio 1980 e mattarella era presidente della regione sicilia il film ripercorre gli ultimi tre mesi della 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 vita di piersanti mattarella e qualche mese successivo un po per sottolineare il prima e dopo del del dell'omicidio efferato che venne proprio appena uscito dalla dalla casa da casa sua stava per andare a chi in chiesa come da buon democristiano da buon credente religioso stava andando con la sua famiglia in chiesa e venne freddato in maniera efferata il film parte da questo questo episodio e poi va indietro a ritroso e si cerca un po di spiegare quello che era la politica ai tempi dei giochi di potere che c'erano a quel tempo e di come per santi mattarella cercava di portare in sicilia un nuovo un nuovo un nuovo corso al punto da allearsi col partito comunista italiano memore degli insediamenti anche di aldo moro e di berlinguerre di portare in sicilia questo fu uno delle delle cause per cui finì nel mirino di di cosa nostra l'altro caso su cui si sofferma il film è l'appalto di sei scuole che dovevano essere costruite a palermo però questo questo appalto ebbe la risposta fondamentalmente di una serie di società sei per l'esattezza una per ogni scuola che però facevano capo a dei prestanomi che poi si portava alle stesse persone che erano collegate a cosa nostra un film d'indagine un film drammatico interessante sì un film interessante da che punto di vista cioè dal punto di vista cinematografico o solamente dal punto di vista storico allora dal punto direi entrambi diciamo che da un punto di vista cinematografico il regista aurelio grimaldi non non fa non utilizza quella regola del romanzare che negli ultimi anni è stata molto utilizzata per forse anche raccontare in maniera più empatica certe storie del dell'italia ecco basta pensare a romanzo criminale o romanzo di una strage i primi che mi vengono in mente ecco l'approccio è molto più diciamo didascalico molto più realistico molto meno sfarzoso concedimi il questo questo termine per cui si entra in una realtà di 40 anni fa in modo decisamente diverso a quello che siamo abituati per cui all'inizio si fa un personalmente ho fatto un po fatica entra dentro nella storia ma la peculiarità del film è la quantità di informazioni di dati e di giustificazioni che vengono date alla alla storia cioè viene tutto sviscerato viene tutto analizzato di modo in cui lo spettatore capisca quel quello che è successo anche perché le persone coinvolte sono molte veramente tante c'è anche il viene ovviamente e c'è anche il film è un film di fiction specifichiamo c'è anche il politico andreotti che si dirige diverse volte in sicilia insomma da tutti gli elementi per capire come la storia è andata e come piersanti mattarella si è scontrato contro un muro decisamente più forte di lui e quindi da un punto di vista cinematografico non è spettacolare da un punto di ripeto nozionistico di informazione di divulgazione della verità è decisamente interessante e notevole e due parole sul cast due parole sul cast direi che un discreto cast non spicca nessuno in particolar modo ma tutti gli attori noti e meno noti perché ad esempio tra i noti c'è toni sperandeo e leo gullotta che entrambi interpretano dei politici della della dc nel resto del cast antonio alveario claudio castrogiovanni nicosia cotanese sono tutti bravi non nessuno regalo un'interpretazione memorabile ma tutti sono al servizio della storia cioè quello che il film vuol dirti è ti spiego quel che è successo in alcuni momenti può sembrare anche una lezione perché ci sono tante informazioni però se uno vuol capire questo delitto che appunto alle cronache è stato diciamo onestamente un po' dimenticato è molto molto utile si intitola il delitto mattarella è girato da Aurelio Grimaldi lo si trova al cinema nelle sale che sono a disposizione da insomma da qualche se da poche settimane per tutti quanti noi a cinque filandia è piaciuto sì assolutamente come sempre ti ringrazio pierpaolo ciao a tutti alla prossima